Garage e strade invase dall'acqua e dal fango, macchine bloccate e traffico in tilt. È stata una mattinata, quella di ieri, difficile per Montesilvano e per i residenti delle vie che si affacciano sul lungomare. Interessate in particolare le traverse di via L'Aquila, via Piemonte, via Cagliari e via Genova. Le forti piogge hanno creato più di un problema, così si è deciso di attivare il centro operativo comunale che ha permesso ai soccorritori di lavorare e liberare le strade. L'ondata di maltempo, che peraltro persiste da giorni, non soltanto qui da noi, è stata inaspettata, come dicevo. Siamo stati colti non proprio di sorpresa, ma abbiamo dovuto fare ricorso non soltanto alle nostre forze, ma anche alle forze esterne. Questo non ce l'aspettavamo e invece le copiose piogge hanno investito in modo particolare la zona del lungomare. Alcuni interventi fatti nei mesi scorsi alle reti fognarie, dice il sindaco, hanno dato giovamento. Sulle zone dove le tubature non hanno retto, gli interventi erano invece programmati per la fine dell'estate. In realtà abbiamo già degli interventi programmati, già i fondi stanziati. Quando parlo di evento inaspettato, a maggio, non pensavamo che si potesse arrivare a una condizione tale da dover intervenire come è stato fatto, ma avevamo pensato a un intervento risolutore, soprattutto in vie che da anni hanno il problema, vedi via l'Aquila, ma vedi anche via Liguria. Abbiamo pensato di attendere l'estate proprio per non bloccare queste vie strategiche da un punto di vista turistico. Anche qui osservato speciale il fiume. Il Saline, che costeggia il territorio montesilvanese, non ha creato, al contrario, particolari problemi. Sì, come dicevo, era soprattutto questa la preoccupazione, piuttosto che le piogge che non sembravano essere copiose così come sono state e in qualche modo anche invasive. Invece il fiume, devo dire che nonostante ci sia stato qualche momento in cui si è pensato il peggio, ha retto e almeno da questo punto di vista abbiamo tirato un bel sospiro di Salievo perché ci sarebbero stati ulteriori problemi, ulteriori danni.